E talpo è partita la finale delle Serie Azzettine, Putin, 268, entra nei punti anche i dati, attenzione c'è una caduta, c'è una caduta, attenzione, 241, 758, 80. L'Una Sport Academy immediatamente per favore l'Evronometristi, dirigente della L'Una Sport Academy immediatamente per favore l'Una Sport Academy, 659. L'Una wassara! poi la luce si vede 148 159 659 e Antonio la protesia e la mia vita la mia vita la mia vita la mia vita il mio lavoro l'ho preso i bloch irodin il livello salvo dalla la terapia la batteria è stata affrontata la lunga finale l'ultima di 16 parta un'età batterie 16 partere un'area con questa l'ultima batteria il segno a femmine 17 e 37 il tempo di riferimento per questa ultima batteria parare i luoghi già sotto la patata sarà affrontata l'ultima l'ultima 17 3 7 la batteria 17 45 ed è partita questa l'ultima per per i miei campioni del mondo che si saranno scrittando per questo ultimo giro e uno scende sotto 16 secondi 16 cento quando il tempo di riferimento e non passiamo a 13 15 15 15 15 15 ragazzi tutti questi atleti che si confrontano qui su questa pista di pantinaggio che è la migliore d'Italia e ancora questa cosa ci fa veramente molto piacere ma mi fa piacere anche vedere le famiglie i genitori i nonni tutti qui insieme a festeggiare un momento eccenziale di sport io quindi